Una querelle infinita, una sopopera tutta aquilana che parte dallo scontro politico in maggioranza che ha avuto come epilogo la cacciata dell'assessora alla cultura Sabrina Di Cosimo, diktat del sindaco Biondi. Querelle che oltre ad avere un'origine e una ragione tutta politica finisce inevitabilmente per coinvolgere persone ed aziende. Quelle culturali, fatte non solo di arte e produzione artistica ma anche di lavoro, di dipendenti che aspettano da mesi di essere pagati. Una sopopera che ha tre tematiche, quella politica, quella culturale e quella vertenziale. Su tutte, nella tempesta in cui si trova travolta la maggioranza in questi giorni, prevalgono adesso le paventate dimissioni della presidenta del TSA, Annalisa De Simone, scrittrice a capo del teatro stabile d'Abruzzo da circa due anni. Il sindaco Biondi ne ha chiesto le dimissioni ieri in consiglio comunale scatenando una vera e propria guerra tra maggioranza e opposizione. Comunicati stampa che si susseguono dichiarazioni sui social e spunta un documento firmato da alcune associazioni culturali, tra cui il TSA, a sostegno di Biondi e che finisce per aumentare la confusione. Abbiamo cercato di capire cosa sta succedendo con la scrittrice De Simone che da Roma si dice basita ma determinata nella sua posizione. Ho una certa amarezza perché essere tirata in ballo in questa cherelle e soprattutto vedere l'ente che presiedo essere messo in mezzo in questo modo, che giudico un po' a scomposto, mi ha lasciato amareggiata. Io credo che il sindaco abbia tutto il diritto di ipotizzare le mie dimissioni volontarie sulla base dello sport system. Il contesto però è il metodo perché pensare di azzerare tutti i vertici solo perché si ha consenso elettorale, secondo me non è una mossa molto strategica. Lei insomma dice fuori la politica della cultura. Sì, secondo me sarebbe più opportuno non pensare di mettere le mani in pasta su tutte le istituzioni culturali del territorio, perché è una logica un po' da prima repubblica, per come la vedo io che sono un privato cittadino, ricopro un ruolo istituzionale, quindi non sono un politico, sono una scrittrice prestata a questo ruolo, io non ho nessuna preoccupazione nel dimettermi, perché sarà anche un po' volgare dirlo, però vorrei ripetere che il mio è un ruolo ad onoreficenza, io non guadagno nulla. Se il presidente Marsilio, perché poi lei sa che la nomina del TSA spetta alla regione, deciderà di inserire una persona di sua fiducia con un orientamento politico simile al suo, al mio posto, io non avrò problemi, perché rispetto molto le regole del gioco, ecco secondo me il punto fondamentale è questo, rispettare le regole, è stata manata una nota dal TSA, che è l'ente che presiedo, senza che io fosse messa al corrente del fatto che questa nota fosse un'iniziativa dell'ente stesso, mi era stato detto che era condivisa da tutte le istituzioni culturali in nome di una distensione per il decennale, per le iniziative che avverranno appunto per il decennale del sisma, e quindi questi sono modi di procedere che non accetto, perché appunto le regole vanno rispettate, vanno rispettate anche i ruoli istituzionali che ognuno ricopre.